Un bombardiero inemico Attenzione, attenzione, soldato nemico! Es ist einer ihrer Speer! Lass reinige ihre Soldaten! We have taken it to the side! Das ist ein feindlicher Sturmsoldat! We have left the Sì, questo è uno dei soldati! Ufff, �iccini! Del paio del Sturmvalgarten! Da vorni un Territendro! Cap! Più! Ascensioni! 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 20 of our soldiers remain. Watch out! I've got a spear in the face! It's one of your spear! Ascensioni! Medical! Ascensioni! 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 When攻 nano is captured, I've got applause! At first! It's under the speed, I've got bagus! Ascensioni! I've got small opponents! Caw! There I'm still second! There's no strong terminal pirates! These MPBs at fourth! We're out of the data! Il seguitore è uno dei loro. Il seguitore è uno dei loro. Il seguitore è uno dei loro.